pronti ragazzi ci siamo casa rinaldi altro appuntamento con la musica italiana e oggi con noi una giovane interprete italiana abbiamo susanna ferrara ciao susanna ciao tesoro come stai tutto bene tu bene grazie e poi con te un questa bella canzone che ci stai presentando va ancora meglio susanna ferrara ci presenta anni luce da qui ma tu così giovane parli già di anni luce fammi capire allora anni luce inteso o almeno per come l'intendo io in quanto comunque non sono io l'autrice però l'ho fatto mio il brano inteso non come anni luce di durata gli anni però anni luce come lontananza in quanto comunque la canzone racconta un po di questo amore finito di due canzoni di due persone che ormai sono un po disconnesse tra di loro e quindi appunto lontane anni luce proprio per sottolineare la distanza che si è venuta a creare che spesso e volentieri purtroppo si creano queste distanze però è un bene quando si creano queste distanze o dare un taglio o cercare di ricucire ma non di sopravvivere con quella distanza che poi diventa sempre più anni luce distante allora questo brano come dicevi tu racconti il dolore e la frustrazione di una relazione che si è deteriorata di due persone ormai disconnesse l'uno dall'altra come nasce questo brano visto che tu sei soltanto l'interprete l'autore ti ha raccontato come nasce questo brano e allora l'autore ovviamente lo ha me lo ha proposto e io ovviamente essendo che comunque il brano descrive questo sentimento queste sensazioni che penso che nella vita un po abbiamo passato tutti e quindi l'ho sentito molto mio poi ovviamente nell'interpretare io cerco di dare un'interpretazione appunto mia particolare rispetto a quello che sento a quello che ho passato ecco passato tuo molto remoto sei giovanissima ricordiamo che Susanna Ferrara e guardate qua classe 1997 e vi dico tutto nasce a Barcellona ma non Barcellona Spagna siamo in Italia a Pozzo di Gotto in provincia di Messina nasci il 30 maggio del 1997 quindi tra poco sarà il tuo compleanno giovanissima hai sempre vissuto in un piccolo paese situato in una Sicilia un po' poco conosciuta in provincia di Messina però una Sicilia molto bella come ti trovi in questa terra? In Sicilia mi trovo proprio bene il paesino in cui vivo si chiama Fondaghellifantina ed è proprio piccolo 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 però ho vissuto proprio nella tranquillità assoluta ovviamente mi sono sempre spostata dagli studi per la scuola perché lì non ci sono scuole però non cambierei diciamo tutta la mia vita lì ecco. Ecco allora Susanna toglimi una curiosità tu hai imparato prima di tutto a cantare e poi a fare tutto il resto perché tu a due anni già cantavi in chiesa ma che cosa mi combini? Sì perché appunto il paese essendo piccolo comunque c'è una parrocchia e organizzavano le recite e quindi ho iniziato a cantare subito praticamente. Qual è stata la prima canzoncina che hai cantato? Era una canzone di chiesa oppure una dello zecchino d'oro che ne so? No no dello zecchino d'oro le prime canzoni vabbè a parte che da quando mi ricordo in macchina mia mamma sempre con la musica quindi non ti so dire la prima canzone che ho cantato però proprio come canzone che ho cantato tanti agli altri è stata una canzone di una recita probabilmente di Natale. A cinque anni inizi la scuola primaria anche qui canti e reciti negli spettacoli scolastici organizzati da tua mamma che era appunto la maestra poi no? Era raccomandata? No no assolutamente anzi no al contrario però mia mamma è sempre stata appassionata di musica quindi comunque dove c'era musica c'eravamo noi. A quattro anni hai cominciato a studiare danza classica quindi oltre che cantante sei anche una ballerina. Ormai ho smesso purtroppo non prendo più lezioni però ho iniziato con la danza classica fino a nove anni poi a nove anni ho cambiato, ho fatto moderno, ho fatto balli di coppia, gare e poi fino a diciassette anni ho staccato pure. E in tutto questo tempo che trascorre la nostra amica Susanna ha tempo anche di studiare pianoforte. Sì. Allora ho iniziato diciamo un po' tutto assieme perché poi a dodici anni ho iniziato a prendere lezioni di canto perché magari prima cantavo a casa ecco con iniziato a prendere lezioni di canto e anche lezioni di musica. Allora e quindi sai fare un po' di tutto in pratica? Le coreografie te le sai fare oppure se adesso devi fare un video e poi dopo chiami il coreografo per movimenti e tutto il resto? No no per movimenti ormai non ho deposto le armi. Susanna Ferrara questo è il tuo primo singolo quindi è un esordio quello che noi abbiamo modo di conoscere. No Anni Luce non è il primo singolo che ho fatto di quest'anno sì però appunto come dicevo collaboro con Marco da un paio di anni già. Allora abbiamo fatto un singolo due anni fa uno l'anno scorso che è di cui ero anche cantautrice dopo un temporale però sempre in collaborazione appunto con Marco e questi singoli appunto già sono sulle piattaforme. Quest'anno poi ho inciso appunto Anni Luce da qui. Allora hai detto dopo il temporale no? Quindi dopo un temporale potrebbe essere quel temporale di un amore no? Che due persone ecco quindi la metafora è quella. Dopo un temporale Anni Luce da qui ecco praticamente questa qui potrebbe essere il sequel della canzone dell'anno scorso. Un percorso. Ah perché io ho la testa un po' che non sta mai fermo e quindi vado sempre a mettere i tasselli al posto giusto e cerco di trovare una risposta anche dove le risposte non ci dovrebbero essere però invece mi dici. E allora adesso Anni Luce da qui che cosa ci porta? Questa Anni Luce da qua quali progetti hai in cantiere dopo questa Anni Luce da qui? Allora dopo questa Anni Luce spero che comunque ci sarà un seguito e comunque anche dei live perché è stato anche brutto in questi anni in cui c'è stato il covid, la pandemia che si è un po' fermato tutto. Quindi spero che con la bella stagione in estate ci saranno dei live. Anzi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram Susanna Ferrara per rimanere aggiornati. Sì i social, profilo Instagram tutti i social e mi raccomando anche Spotify. Io ve lo dico sempre create la vostra colonna sonora preferita con le canzoni di questi giovani artisti italiani che hanno veramente tante cose da raccontarci. Susanna Ferrara è l'interprete del singolo dietro di me vedete la cover Anni Luce da qui. L'autore ricordiamolo ancora è Marco Canigliula che ringrazio e saluto. E salutiamo anche noi e quindi un appuntamento con la musica italiana da non perdere mai assolutamente in questo caso con Susanna Ferrara che ha tante cose da fare e veramente una giovane ragazza con un bagaglio già bello pieno di cose che ha fatto e che non smetterà di fare. Un progetto, un sogno fra dieci anni dove ti vedi? Spero intanto a Sanremo che sembra una cosa scontata ma è diciamo un po' l'obiettivo che poi magari non è un obiettivo però uno dei primi obiettivi a cui un po' chi fa musica aspira e poi spero appunto di poter vivere di musica che è la cosa a cui mi sono dedicata principalmente nella mia vita. Bene allora io mi auguro di ritrovarti fra che ne so fra cinque anni anche perché Sanremo fino a 30 anni si può partecipare poi oltre non si può tra i giovani e quindi una tappa a Sanremo io te l'auguro incrocio le dita per te e poi fammi uno squillo eh se ci sono novità io sono qua ad ospitarti un abbraccio Susanna Un piacere un abbraccio a te ciao Ciao ciao